dopo ancora attaccare però il Bolzano con Brusson che mette il cross Barone in anticipo su Marco e poi il destro da parte di Rotaru grande chance per il Bolzano Lazio lo fa adesso però Bagliesi che va subito in verticale da Cortoni in velocità con Offer passa Cortoni in area Zanotelli e poi non riesce ad agganciare il pallone per la ribattuta Cortoni ma Cataldi recupera Cataldi in zona cross lato corto va a corciare su di lui Rotaru che ritarda il cross ancora Cataldi mette in mezzo l'Ulay salvataggio sulla linea di Gega doppia occasione clamorosa ancora Cataldi in area con l'esterno cerca il primo palo Lazio a centimetri dal vantaggio ha attaccato la profondità qui intanto errore con il destro potenza riesce a respingere di testa ancora Bagliesi verso la porta parte Rotaru Cataldi bravo a chiudergli la strada pallone dentro per Alessandrini ad arrivare Alessandrini che comunque rigioca il pallone per Bagliesi Mancino poi Lulai pallone a rientrare dalla bandierina il colpo di testa da due passi di Lulai rinnova il duello con Gega prende il fondo Cortoni mette in mezzo col mancino Mauro Zanotelli con un miracolo del portiere di Bolzano intervento incredibile attenzione ancora all'angolo Lulai Lulai il colpo di testa di Daniele Lulai riesce a trovare il bandolo della matassa la squadra di pesci che va in vantaggio a sette dal traguardo 1-0 rilancio lungo Bagliesi di testa prima di Plungher ancora Bagliesi va via Bagliesi cerca la porta Bagliesi sfiora il gol da Cine teca Thomas Bagliesi parte adesso Plungher pallone tagliato nel cuore dell'area Barone sul colpo di testa di potenza è finita non si batte il calcio d'angolo vince il Lazio che si prende i primi tre punti del torneo delle regioni raggiunge il Veneto in testa la classifica e domani ci sarà quella che può essere una sfida decisiva per il primo posto del girone contro la formazione veneta